Allora, l'emozione per l'esordio azzurro? Sì, ero parecchio tesa, però poi le mie compagnie mi sono sempre state molto vicine, quindi diciamo che la tensione è sparita subito. Vi aspettavate una vittoria per 3-0 con la Cina? No, assolutamente no, però con Marco stiamo lavorando veramente bene, quindi speriamo che tutto il lavoro che stiamo facendo durante la settimana venga messo poi in campo. L'Italia è molto giovane, ma ha risposto in maniera molto presente a questa partita. Sì, siamo molto giovani, però siamo molto squadra e questo penso si sia visto anche in campo e questa è stata la nostra forza secondo me. Questo affetto qui di tutte queste ragazzine che sognano di diventare come te, che effetto ti fa? È una cosa nuova, di solito ero io che manifestavo tutto questo affetto per le più grandi, per le vere big e adesso sono loro qui, mi fa molto piacere.